Ciao a tutti, io sono Mirko e oggi vediamo come collegare il ricevitore FRSKY X4R alla NAZ32REV6 Collegheremo sia il segnale tramite SBUS che la telemetria Per collegare il ricevitore al flatcontroller dovremo usare questa serie di pad qua in particolare ci serviranno i pin 1, 2 e 4 nei pin 1 e 2 collegheremo l'alimentazione per il ricevitore mentre nel pin 4 collegheremo il cavo segnale dell'SBUS e in particolare colleghiamo il cavo della terra nel pin 1 il cavo dei 5V nel pin 2 e il cavo dell'SBUS nel pin 4 che andrà a utilizzare la porta UART2 Quindi adesso colleghiamo il cavo servo al ricevitore e per utilizzare l'SBUS dovremo usare questa serie di pin qua SB più e meno che in particolare sono questi pin qua sotto Quindi colleghiamo Adesso colleghiamo la telemetria e vediamo come preparare il cavo dei 4 fili presenti nel connettore ci servirà solo quello bianco quindi rimuoviamo gli altri con l'aiuto di una taglierina tiriamo su questa piccola parte in plastica e sfiliamo il filo in questo modo 1 tiriamo su sfiliamo 2 e l'ultimo e l'ultimo tiriamo su e sfiliamo ecco fatto rimuoviamo quindi questi fili perché non ci servono adesso adesso ci è rimasto solo questo cavetto bianco però lo dovremo portare da tutto a sinistra a tutto a destra quindi di nuovo tiriamo su la linguetta sfiliamo il cavetto e lo rimettiamo tutto a destra in questo modo una volta collegato andremo a utilizzare la smart port che è appunto il canale dove viene trasmessa la telemetria il risultato finale sarà questo per utilizzare la telemetria avremo bisogno di una porta UART ma visto che la porta UART2 è utilizzata per l'SBUS e la porta UART1 è in condivisione con la porta USB del flight controller andremo ad utilizzare una soft serial in particolare useremo la soft serial 2 che è posizionata l'RX nel pin 8 e il TX nel pin 7 per far funzionare correttamente la telemetria dovremo saldare il cavo della smart port nei pin 7 e 8 contemporaneamente se utilizzeremo solo un pin la telemetria non si attiverà ricordiamoci che il cavo della telemetria sia abbastanza lungo per ricoprire i due pad poi dopo aver prestagnato sia il pad sia il filo lo appoggiamo e lo saldiamo ok in modo che quando si è saldato come abbiamo detto sia saldato contemporaneamente nei pad 7 e 8 in questo modo per alimentare la nase 32 abbiamo bisogno di una PDB perchè questo flight controller non ha la possibilità di essere collegato direttamente a una batteria lipo quindi dalla PDB colleghiamo un cavetto servo che vada all'uscita 5V che andrà collegato poi in questi pin dove vanno collegati gli ESC per leggere il voltaggio della batteria invece dovremo collegare il VCC della PDB al voltage monitor del flight controller il VCC significa praticamente che noi collegheremo in maniera diretta i fili senza farli passare né per BEC a 5V né per BEC a 12V quindi in questi cavi passerà il voltaggio reale della batteria non filtrato da BEC quindi colleghiamo ricordandoci di mettere il nero nel negativo e il rosso nel positivo adesso colleghiamo il cavo al flight controller il rosso nel positivo verso l'alto bene e il nero nel negativo verso il basso adesso il nostro flight controller è pronto per leggere il voltaggio della batteria adesso effettuiamo tutti i collegamenti colleghiamo il ricevitore al flight controller il flight controller alla PDB e poi colleghiamo la telemetria adesso non ci rimane che collegare una batteria lipo e fare la configurazione su betaflight dopo aver collegato il flight controller clicchiamo su connetti la prima cosa da fare è andare in configurazione scendere verso il basso e attivare le porte soft serial selezionando soft serial andiamo in save reboot e siamo pronti per fare la configurazione in ports in ports dovremo attivare il serial RX nella porta UART2 visto che abbiamo collegato l'X4R in questa porta attiviamo e la telemetria nella soft serial 2 quindi andiamo in telemetria output clicchiamo e selezioniamo smart port quindi andiamo in save reboot andiamo in configurazione scendiamo e settiamo il ricevitore clicchiamo e scegliamo serial based receiver poi andiamo qui e scegliamo SBUS andiamo in save reboot torniamo verso il basso e adesso dobbiamo attivare la telemetria oltre ad attivare la telemetria dobbiamo attivare il voltaggio della batteria quindi andiamo in save reboot come vedete qui è comparso 11.2V che è il voltaggio della batteria collegata adesso possiamo configurare la telemetria sulla Taranis dopo aver fatto tutti i collegamenti siamo pronti per attivare la telemetria sulla Taranis clicchiamo menu e andiamo fino alla pagina 11 che è quella relativa alla telemetria una volta che siamo arrivati a pagina 11 giriamo la rotella fino ad arrivare a discover new sensor una volta che abbiamo selezionato discover new sensor clicchiamo enter e farà la ricerca di tutti i sensori presenti dopo qualche secondo possiamo di nuovo cliccare stop discovery in particolare a noi ci interessa il VFAS che qui segna 11.2V che è il voltaggio della batteria il VFAS è molto importante per sapere quanta carica ancora la nostra batteria e non rimanere con la batteria scarica durante il volo questo era il mio tutorial su come collegare l'X4R alla NAZ32 attivando l'SBUS e la telemetria grazie per aver visto il video non dimenticate di iscrivervi al canale e di mettere mi piace grazie 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 grazie